Buonasera, sono Laura Antichi Oggi vediamo come creare una semplice texture per scatole in OpenSIM Questa texture andrà a indicare il contenuto della scatola che andiamo a mettere in vendita La costruiremo insieme ora con un semplice PowerPoint Apriamo il nostro PowerPoint, inseriamo una nuova diapositiva vuota E con inserisci inseriamo un testo Inserisci testo Quindi casella di testo E scriverò, in questo caso, occhiale Quindi ingrandisco il carattere Anche fino a 72 Possiamo anche mettere di più Un'80 Centro il testo Poi scelgo un colore del carattere In questo caso rosso Scelgo il grassetto Posso anche mettere una immagine Che identifichi gli occhiali Lo faccio andando in inserisci icone Icone mi restituisce, sì, degli occhiali Potrei comunque ricercare con la casella di ricerca Ma mi sta bene questo che mi propone Occhiali Inserisci Magari li ingrandisco Questi occhiali Li posso colorare con il riempimento della grafica Facciamo tono su tono Poi metto uno sfondo alla diapositiva Formato sfondo Posso mettere un colore Vabbè, metto un colore abbastanza chiaro Giallino Giallo Anche se è troppo Vabbè, metto un po' più chiaro Mi piace di più Occhiali Ora Con la tastiera stamp Vado a selezionare Quindi il testo che ho creato con l'icona Faccio uno screenshot Che vado a salvare sul mio computer Scriverò Occhiali Ad esempio Posso scrivere Dare un nome a questo screenshot Occhiali Scatola Per poi ritrovarmelo Salvo Me lo salva in PNG Come vedete Vado ora In OpenSIM E in OpenSIM Nella Sandbox Farò tutte le operazioni Indispensabili per creare la scatola Ma la prima cosa che devo fare È caricare la mia texture Cioè la mia immagine Quindi vado in Costruisci Incarica Incarica Immagine Tra le immagini Tra le immagini Cerco Occhiali Scatola Che ho appena creato Apro Apro Ed ecco qui La texture Che ho creato Quindi carica Ho caricato la texture E la vedete E la vedete comparire Nell'inventario Occhiali Scatola Ora Creo la mia scatola Che mi servirà per mettere in vendita Anche a costo zero Gli occhiali Quindi Faccio Crea Creo innanzitutto la scatola Con il cubo Ingrandisco un attimo Tanto per questo tutorial La scatola Poi Metto In generale Metto un nome All'object E scrivo Occhiali Sotto Posso dare una descrizione Quindi Occhiali in vendita In vendita Posso scrivere Gratis Perché non ho intenzione Di farli pagare Poi metto in vendita Qui sotto A costo zero Faccio applica Successivamente Vado in texture Non seleziono un'unica faccia Ma metterò la texture Su tutte le facce Pertanto lascio così come si presenta Clicco su texture Mi si apre a lato della texture Mi si apre a lato della texture L'inventario Trovo occhiali scatola che avevo caricato E do l'ok E vedete che ho Quindi creato la mia scatola Vado ora in contenuto Apro l'inventario Apro l'inventario Cerco Nell'inventario Occhiali E vedete che ho degli occhiali Metto Trascino dentro Il contenuto Gli occhiali da sole Sport Questo Va bene Faccio Tre Trendy Da sole Va bene Ok Chiudo l'inventario Come vedete Ho messo un contenuto Agli oggetti in inventario Controllo bene Di aver fatto Tutto Esattamente In generale Ad esempio L'ho messo in vendita E Diciamo che Chiunque Do anche Posso dare Dei permessi Mi interessa Che le persone Possano copiare Quindi va bene Copia Ok Il mio Quindi Oggetto La mia scatola Come vedete Ho creato La mia scatola Questa scatola Che È pronta Per essere Quindi Acquistata Per essere Presa Infatti Cliccando Sulla scatola Vedete Che Si apre Il contenuto Occhiali da sole Occhiali Trendy box Occhiali da sole Sport Quindi mi indica Già il contenuto Della scatola E mi dice Che Si tratta Di occhiali In vendita Gratis Naturalmente Le persone Possono Prendere Questo oggetto E copiarlo Questo è tutto Buona serata Grazie a tutti Occhiali da sole